Eccoci qua, abbiamo Monsignor Rino Fisichella e Monsignor Graham Bell, qui oggi presentano il messaggio del Santo Padre per la sesta giornata mondiale dei poveri che sarà celebrata domenica 13 novembre prossimo, sul tema Gesù Cristo si è fatto povero per noi, perché Gesù, da ricco che era, si è fatto povero per noi perché diventassimo così ricchi per mezzo della sua povertà. Sembra un paradosso, ma sì, c'è una povertà che rende ricchi, è così eccellenza? È vero. Ci illustra adesso la dimensione e l'intensità del messaggio del Santo Padre per quest'anno. Buongiorno. Quanti poveri genera l'insensatezza della guerra? È in questo grido probabilmente che si può racchiudere il messaggio di Papa Francesco per la sesta giornata mondiale dei poveri che quest'anno ricorrerà il 13 di novembre. Lo sguardo di chi prende tra le mani questo testo si fissa necessariamente sulle tristi vicende che si stanno sperimentando in questi mesi e che terranno ancora intere popolazioni sotto il ricatto della paura e della guerra nelle prossime settimane. A nessuno sfugge l'appello che ogni giorno il Papa fa sentire al mondo perché si prenda coscienza delle conseguenze che la guerra produce. Ci sono quelle più immediate che creano milioni di profughi e deportazione di migliaia di persone, soprattutto bambini e bambine, che vengono sradicate dalla loro terra, dalla cultura, con le sue tradizioni e dalla stessa lingua per imporre loro una identità estranea frutto del calcolo e del soppruso. In poche righe viene incontro una descrizione di violenza e dolore che non possono lasciare tranquilli. Al numero due dice il Papa sono milioni le donne, i bambini, gli anziani costretti a sfidare il pericolo delle bombe pur di mettersi in salvo. Ogni giorno convivono con la paura e la mancanza di cibo, acqua, cure mediche e soprattutto degli affetti. Ci sono comunque le conseguenze che derivano dal prolungarsi delle guerre che creano forti disagi e sofferenze anche nelle popolazioni che vivono limitrofe e che per la dipendenza delle risorse a livello globale subiscono gli inevitabili disagi e sacrifici. Al messaggio non sfugge questa condizione che viene descritta con precisione al numero quattro, cito, più si protrae il conflitto più si aggravano le sue conseguenze. I popoli che accolgono fanno sempre più fatica a dare continuità al soccorso. Le famiglie e le comunità iniziano a sentire il peso di una situazione che va oltre l'emergenza e questo è il momento di non cedere e di rinnovare la motivazione iniziale. Ciò che abbiamo iniziato ha bisogno di essere portato a compimento con la stessa responsabilità. Papa Francesco con il suo stile a cui non manca la paresia, cioè il parlare chiaro senza fare sconti a nessuno, entra direttamente nel cuore della problematica. Sono varie espressioni dal numero 7 del messaggio. Davanti ai poveri non si fa retorica, ma ci si rimbocca le maniche e si mette in pratica la fede attraverso il coinvolgimento diretto che non può essere delegato a nessuno. Il suo pensiero si sviluppa in tre passaggi che permettono di delineare un sentiero di impegno fattivo e di solidarietà responsabile. Il primo è quello di rifiutare ogni forma di rilassatezza che porta ad assumere comportamenti non coerenti, qual è l'indifferenza nei confronti dei poveri. È un tema che ritorna spesso nel Magisteo del Papa perché è una condizione culturale frutto di un esasperato secolarismo che rinchiude le persone all'interno di una muraglia cinese senza più senso di responsabilità sociale, con l'illusione di vivere un'esistenza felice ma di fatto effimera e senza fondamento. Papa Francesco parla del sonno dell'indifferenza da cui è necessario svegliarsi proprio attraverso l'impegno della carità. Cito dall'Omelia del 29 novembre del 2020. Chi è indifferente vede tutto uguale come di notte e non si interessa di chi gli sta vicino. Quando orbitiamo solo attorno a noi stessi e ai nostri bisogni indifferenti a quelli degli altri, la notte scende nel cuore. Il cuore diventa oscuro, presto si comincia a lamentarsi di tutto, poi ci si sente vittime di tutti e infine si fanno complotti su tutto. Lamentele, senso di vittima e complotti. È una catena. Oggi questa notte sembra calata su tanti che reclamano per sé e si disinteressano degli altri. Come ridestarci da questo sonno dell'indifferenza? Con la vigilanza della carità. La carità è il cuore pulsante del cristiano. Come non si può vivere senza battito, così non si può essere cristiani senza carità. A qualcuno sembra che provare compassione, aiutare, servire sia cosa da perdenti. In realtà è l'unica cosa vincente perché è già proiettata al futuro, al giorno del Signore, quando tutto passerà e rimarrà solo l'amore. Fine della citazione. Il secondo passaggio è quello di riassumere la solidarietà come forma di impegno sociale e cristiano. Scrive il Papa al numero 5. La solidarietà, in effetti, è proprio questo. Condividere il poco che abbiamo con quanti non hanno nulla, perché nessuno soffra. Più cresce il senso della comunità e della comunione come stile di vita e maggiormente si sviluppa la solidarietà. Come membri della società civile manteniamo vivo il richiamo ai valori di libertà, responsabilità, fratellanza e solidarietà. E come cristiani ritroviamo sempre nella carità, nella fede e nella speranza, il fondamento del nostro essere e del nostro agire. L'analisi di Papa Francesco in questo orizzonte non è priva di riferimenti concreti. In questi decenni, infatti, molti Paesi, attraverso leggi che hanno incentivato politiche familiari e sostenuto progetti sociali, hanno realizzato delle vere conquiste economiche che hanno portato a una crescita significativa per tante famiglie che hanno raggiunto uno stato di vita sicuro. È giunto il momento, quindi, della condivisione di questo patrimonio di sicurezza e stabilità, perché nessuno abbia trovarsi nell'indigenza e nella miseria. Una partecipazione responsabile che abbandona le varie forme di assistenzialismo, troppo facile da perseguire e senza vera efficacia per la dignità delle persone. Per assumere, un comportamento che si fa forte dell'attenzione sincera e generosa che permette di avvicinarsi a un povero come a un fratello che tende la mano, perché io mi riscuota dal torpore in cui sono caduto. Ciò richiede una vigilanza capace di considerare il giusto valore del denaro. Un accenno importante è questo, perché Papa Francesco si dimostra profondo conoscitore del cuore umano quando al numero 7 annota. Il problema non è il denaro in sé, perché esso fa parte della vita quotidiana delle persone e dei rapporti sociali. Ciò su cui dobbiamo riflettere piuttosto è il valore che il denaro possiede per noi. Non può diventare un assoluto, come se fosse lo scopo principale. Un simile attaccamento impedisce di guardare con realismo alla vita di tutti i giorni e offusca lo sguardo impedendo di vedere le esigenze degli altri. Nulla di più nocivo potrebbe accadere a un cristiano e a una comunità dell'essere abbagliati dall'idolo della ricchezza, che finisce per incatenare a una visione della vita effimera e fallimentare. Il terzo passaggio diventa propositivo con l'immagine che guiderà i credenti nella sesta giornata mondiale dei poveri. È la citazione della seconda lettera di Paolo ai cristiani di Corinto. Gesù Cristo si è fatto povero per voi. Il contesto della lettera dell'Apostolo è quello della raccolta di fondi per sostenere i poveri della comunità di Gerusalemme. I Corinti, che avevano aderito immediatamente con entusiasmo a questa iniziativa, con il protrarsi del tempo, si stancano e diventano meno generosi. Una condizione che si ripete nel corso del tempo e che manifesta più l'emotività con cui si reagisce davanti alla povertà che non la responsabilità di una scelta che si rende tangibile in un impegno che non conosce sosta né fatica. La testimonianza dei cristiani, quindi, ha bisogno di essere sostenuta dall'esempio che Gesù stesso ha donato. La vera ricchezza, scrive al numero 8 il Papa, non consiste nell'accumulare tesori sulla terra dove tarma e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano, ma piuttosto nell'amore vicendevole che ci fa portare i pesi gli uni degli altri così che nessuno sia abbandonato o escluso. È necessario farsi forte dell'esperienza vissuta in questi ultimi due anni che ha permesso a tutti, nessuno escluso, di sperimentare una forma di povertà come la debolezza, il senso del limite, la paura, la mancanza di affetti e tanto altro, per acquisire qualcosa di realmente essenziale per la vita. Non siamo al mondo per sopravvivere, ma perché a tutti sia consentita una vita degna e felice. Il messaggio ci mostra la via e ci fa scoprire che c'è una povertà che umilia e uccide e c'è un'altra povertà, la sua che libera e rende sereni. La prima si riconosce immediatamente perché è dinanzi ai nostri occhi nelle forme più disparate. È la miseria, figlia dell'ingiustizia, dello sfruttamento, della violenza, della distribuzione ingiusta delle risorse. È la povertà disperata, priva di futuro, perché imposta dalla cultura dello scarto che non concede prospettive né vie d'uscita. È la miseria che, mentre costringe nella condizione di indigenza estrema, intacca anche la dimensione spirituale, che anche se spesso è trascurata, non per questo non esiste o non conta. Quando l'unica legge diventa il calcolo del guadagno a fine giornata, allora non si fanno più, non si hanno più freni ad adottare la logica dello sfruttamento delle persone. Gli altri sono solo dei mezzi. Non esistono più giusto salario, giusto orario lavorativo e si creano nuove forme di schiavitù, subite da persone che non hanno alternativa e devono accettare questa velenosa ingiustizia pur di racimolare il minimo per il sostentamento. La seconda, al contrario, è quella che appare paradossale e spesso impensabile da perseguire per il nostro contemporaneo e tuttavia è quella che libera perché si pone dinnanzi a noi come una scelta responsabile per alleggerirsi della zavorra e puntare sull'essenziale. In effetti si può facilmente riscontrare quel senso di insoddisfazione che molti sperimentano perché sentono che manca loro qualcosa di importante e ne vanno alla ricerca come erranti senza meta. Desiderosi di trovare ciò che possa pagarli hanno bisogno di essere indirizzati verso i piccoli, i deboli, i poveri per comprendere finalmente quello di cui avevano veramente necessità. Incontrare i poveri permette di mettere fine a tante ansie e paure inconsistenti per approdare a ciò che veramente conta nella vita e che nessuno può rubarci. L'amore è vero e gratuito. I poveri, dice il Papa ancora, in realtà prima di essere oggetto della nostra lemosina sono soggetti che aiutano a liberarci dai lacci dell'inquietudine e dalla superficialità. che questa scelta sia possibile e reale Papa Francesco lo mostra con l'esempio di Saint Charles de Foucault, un uomo che nato ricco rinunciò a tutto per seguire Gesù e diventare con lui povero e fratello di tutti. Un uomo dei nostri giorni che umanamente non ha visto i frutti che la sua santità ha portato e tuttavia è passato alla storia per la sua scelta di essere povero. È da queste pagine pertanto che si snoderà l'impegno delle chiese locali per la celebrazione della sesta giornata mondiale dei poveri che ogni anno diventa sempre più radicata nel cuore dei cristiani di tutto il mondo con iniziative tra le più svariate, frutto della carità creativa che anima e suscita l'impegno della fede. Papa Francesco, attraverso l'impegno del di Castero per l'evangelizzazione, nella sezione che per sua competenza ha responsabilità di questa giornata mondiale, vivrà questo momento con la tradizionale celebrazione eucaristica di domenica 13 novembre e poi con le diverse iniziative che nel corso della settimana precedente raggiungeranno le varie forme di povertà della sua diocesi di Roma. Lo scorso anno sono state raggiunte, solo per fare un esempio, 5.000 famiglie a cui è giunto un kit di medicinali da banco per far fronte alla pandemia e alle varie patologie della stagione. Kit offerto da Angelini Pharma, da Procter & Gable e regia congressi. Inoltre sono stati distribuiti tonnellate di viveri, generi alimentari di prima necessità, quali ad esempio olio, sale, zucchero, passate di pomodoro, caffè, latte, riso e tanto altro, ottenuti per la generosità della famiglia fedeli dei supermercati elite e della famiglia ferro della pasta alla molisana. Altrettanta solidarietà è stata espressa da Unipolsai che ha permesso di pagare le bollette di acqua, luce, gas, assicurazioni, affitti a 500 famiglie che la disoccupazione e varie contingenze hanno reso impedite di corrispondere con il rischio di condizioni di vita disumane. insomma questo e tanto altro è stato reso possibile come ci auguriamo continuerà ad esserlo perché tante persone hanno raccolto l'invito alla generosità così come agli inizi della nostra storia l'Apostolo aveva rivolto ai primi cristiani come si legge nel messaggio non per farne un comando piuttosto per rendere tutti maggiormente sensibili alle esigenze dei fratelli e sorelle che vivono nel disagio e nella povertà. Grazie. Grazie a lei eccellenza di questa presentazione e anche dell'invito che fa tutti noi di sentirci parte soprattutto concretamente alla giornata dei poveri che poi si protrae ogni giorno della nostra esistenza l'accogliamo volentieri il suo incoraggiamento. Monsignor Gaham lei ha una parola da aggiungere un tema che mette in risalto. Allora apriamo spazio a voi colleghi ricordiamo che abbiamo anche dei colleghi in collegamento da remoto che possono partecipare facendo le loro domande sentiamo se qualcuno si fa coraggio prima di tutti. In fondo vedo Eva. Eccola. Grazie Eva Fernande della cadena COPE. Monsignor il bilancio delle iniziative per aiutare i poveri lo scorso anno è stato notevole ma vorrei chiedere se puoi dirci qualcosa su ciò che è programmato per questo anno e se verrà per esempio installato un centro di soccorso medico in piazza San Pietro. Grazie. Guardi nel periodo della pandemia abbiamo dovuto sospendere questa iniziativa per ovvie ragioni che venivano imposte dalle esigenze sanitarie e che noi non avremmo potuto corrispondere con i mezzi a disposizione. Io penso siccome questo del presidio medico che avevamo posto per due anni in piazza San Pietro e un anno, il primo anno in piazza Pio XII, siccome questo è stato molto richiesto. Io devo dire che nei giorni della settimana della giornata mondiale dei poveri l'anno scorso molte persone che sono i nostri amici che abitano come voi sapete, abitano di fatto qui nel colonnato, molti mi hanno chiesto di poterlo rimettere soprattutto per le analisi cliniche e soprattutto per le varie specializzazioni di dermatologia eccetera che venivano in fettivologia che erano presenti. Io penso e spero con tutto il cuore che a novembre si possa di nuovo realizzare questo presidio o una forma simile per poter andare incontro a queste esigenze. Poi certamente non possiamo dimenticare che ogni anno assistiamo a delle povertà più emergenti. Come ho detto lo scorso anno è stato l'anno, chiamiamolo così, delle bollette perché aver aiutato più di 500 famiglie raccolte attraverso la presenza delle nostre parrocchie è stato molto significativo ed è stato un grande aiuto che abbiamo dato perché non dimentichiamo altrimenti queste famiglie si ritrovano nella condizione che viene tolto il riscaldamento, viene tolta la corrente elettrica, viene tolta l'acqua cioè vengono tolti quegli elementi essenziali per poter vivere e queste sono famiglie che hanno la loro casa ma vivevano e continuano a vivere situazioni di profondo disagio. Quindi ogni anno adesso vediamo che ci sono difficoltà che toccano ad esempio le provviste della farina e via dicendo, cioè tante altre cose che speriamo che possono essere superate ma nella vicinanza della giornata mondiale dei poveri dovremo focalizzare in questi mesi dovremo focalizzare bene quali necessità le famiglie più disagiate vivono qui a Roma. Grazie Altre domande? Ecco Manuela Sono Manuela Tulli dell'Ansa volevo chiedere se oltre a questi gesti diciamo più concreti appunto bollette e farina si tornerà anche a gesti simbolici tipo il pranzo con la partecipazione del Papa che vedeva l'aula Paolo VI rivoluzionata da questo evento. Grazie Grazie Sì, anche questo ribadisco non abbiamo potuto realizzarlo non per il desiderio sempre vivo del Santo Padre e anche dei poveri di poter partecipare ma solo ed esclusivamente per ovvie ragioni di assembramento. Io mi auguro che anche questo gesto simbolico giustamente che tra l'altro viene ripreso fortemente anche in tantissime diocesi sparse nel mondo e con diverse modalità. pensi che ad esempio lo scorso anno il vescovo di Berlino ha messo a disposizione, era chiusa per restauro la cattedrale e ha voluto aprirla in questa occasione per offrire il pranzo ai poveri. Quindi devo dire che è un piccolo momento ma estremamente simbolico che viene colto veramente con tutta la sua valenza. Grazie Vediamo se ci sono altre domande Neanche da remoto Eccola, vedo un altro collega lì Ecco, Nico Gioitis, Gheliaforos di Cipro Eccellenza, ha detto poco fa che la povertà è un continuo cambiamento e porta in continuo fatti di emergenza In che maniera però la Chiesa può proporsi per cambiare questo modello di vita? Ma direi innanzitutto con l'attenzione e la solidarietà Perché quando ci sono queste emergenze la prima dimensione non sono i proclami di solidarietà ma è la responsabilità fattiva Quindi gli sforzi della Chiesa mi sembra che debbano unirsi a quelle di tante altre realtà civili, sociali che nelle emergenze danno il meglio di sé attraverso una forma di volontariato reale e fattivo Questo mi sembra che sia la prima dimensione più immediata Poi c'è la dimensione che mi sembra importante che definirei profetica La Chiesa ha un compito profetico fondamentale e che per molti versi solo lei è chiamata a svolgere perché lo ha ricevuto come un mandato E la dimensione profetica diventa anche capacità di denuncia per le cause che provocano queste emergenze Certamente dobbiamo considerare che quando si parla di giornata mondiale dei poveri o quando si parla di povertà l'identificazione delle povertà è estremamente complessa Come mi sono sforzato anche di dire come anche il messaggio ribadisce ci sono delle povertà che non sono soltanto materiali ma ci sono delle povertà che sono esistenziali che sono vissute a livello esistenziale Penso a quello che può essere la mancanza degli affetti la conseguenza della solitudine quello che può essere le varie forme di paura di disagio, di emarginazione esistenziali che sono tipiche di una cultura secolarizzata Quindi mi sembra che noi non possiamo puntare lo sguardo solo a quelle più facili povertà che sono materiali e che ovviamente richiedono anche una concreta presenza solidale ma ci sono anche le altre forme di povertà che sono provocate da espressioni culturali che non puntano alla dignità della persona e quindi a quelle forme di reale ingiustizia perché di ingiustizia si tratta perché quando non si rispetta la dignità della persona il primo elemento è proprio quello della ingiustizia che viene compiuta nei confronti di una persona e quindi anche davanti a questo resta la denuncia profetica resta cioè l'analisi e l'attenzione sulle cause che provocano queste povertà rimuovere queste cause richiede un grande impegno a livello culturale innanzitutto da qui non si può prescindere e quindi è inevitabile che tante volte anche la voce della Chiesa su questo aspetto sia emarginata ma questo dovrebbe rendere ancora più forte il grido perché si punta a quello che è la dignità di ogni persona e della persona nel suo insieme benissimo grazie se non ci abbiamo nient'altro da aggiungere i colleghi sono sazi possiamo salutarci possiamo salutarci eccellenza la ringrazio tantissimo della presenza di tutto quello che ha fatto non so se lei rimane ancora qua qualche minuto disponibile per le altre grazie per i colleghi se vogliono intervistarlo ci alziamo un secondo perché così possono fare le foto a voi le foto? sì, ci sono i colleghi fotografi e poi vi lasciamo agli altri colleghi che sistemeranno le interviste grazie a tutti della partecipazione alla prossima grazie a tutti grazie a tutti